Il motivo di questo ennesimo sopralluogo è che per l'ennesima volta i lavori che procedevano in maniera regolare si sono stoppati. Allora siamo venuti a verificare sul posto. Mantenendo quell'azione di fiato sul collo che si è fatta ormai da due anni, cioè dal gennaio del 2012. E che perlomeno, non male, consente ai lavori di andare un po' avanti, anche se a spizziche e bocconi, ma sempre meglio di averli completamente bloccati. Il concetto è che qui si va a stati d'avanzamento lavori e il SAL si fa direttamente noi deputati, nel senso che veniamo a conoscenza di quelle informazioni sui lavori. Tutte le volte ci ritroviamo qui nei punti dove sono stati effettuati gli scavi. Giusto per dare un'informazione, i tubi sono arrivati praticamente di fronte a casa delle abitazioni, ma manca l'ultima parte di collaudo. Oggi Publiacqua ci ha informato che per quanto riguardava loro doveva essere tutto a posto, ora sul campo notiamo che mancano alcuni tratti di tubo. Aspettiamo una comunicazione ufficiale da Publiacqua.